Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovissimo video ci siamo qui per costruire questo nuovo numero dell'uscita di Titanic, la nave, la leggenda, uscita numero 14, avviso importante, gentili l'architettore a causa di un errore di confezione del fascicolo 13 e 14, il precedente fascicolo 13 aveva all'interno il contenuto delle istruzioni di montaggio del numero 14 e questo già non che ho immaginato, ci scusiamo per l'errore. Andiamo. 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 Qua c'è il fascicolo numero 14. Nel prossimo numero, condotto di aerazione canotte, sezione terza della carena, cacciavita L, chiave a brugola e viti. Numero 14, 14 giugno, Titanic, gigante dei mari in scialuppa verso la salvezza seconda parte, qui una foto con le scialuppe, gigante dei mari, qua non c'è un'altra fotografia, non tutte le scialuppe del Titanic che furono recuperate al momento del sabotaggio, le superse degli alzatti trapeglievole ad esempio fu ritrovata dai membri dell'Equipaggio dell'RMS Oceanic, nel 13 maggio 1912 a 200.000 dal luogo del naufragio con aborto, tre corpi senza vita, l'orchestra del Titanic, il Titanic Musicians Memorial e qua ci stanno le altre istruzioni per continuare. questo, vabbè, è che qua c'era un errore, infatti ora dovremmo andare a prendere quel numero 13 e continuare, mentre qua ci sarà il risultato finale di questa uscita. e nulla, ci vediamo nel prossimo video, mentre montiamo questa parte. a presto